La prima edizione del Pizza Romana Day, la giornata organizzata in collaborazione da Agrodolce, Green Style e Repubblica Sapori, ci sarà a Roma il 13 settembre. Una giornata durante la quale verranno approfonditi i temi legati alla pizza romana, la sua caratterizzazione, le prospettive e la sua posizione sul mercato. Una festa quindi dedicata alla pizza romana e anche la sua valorizzazione come gusto della tradizione e soprattutto anche con l'intento di incentivarne il miglioramento qualitativo. L'evento vedrà coinvolte diverse pizzerie della città all'insegna della pizza romana con gusti tradizionali e interpretazioni affidate all'estro dei pizzaglioli, affinché Roma si possa raccontare anche attraverso il sapore della sua pizza. Grazie a tutti!